Ebbè tanto la prendiamo da lontano? Ragazzi, apri il brano di che è tagliato, non si duffa ombra, vi vedete. Motore! Motore, c'è lì, c'è. Io devo girare. Con l'ansia del ticchentatore. Gira! E... Azione! Non dico, ma te le stupite, oltre queste botte di genere ti vengono spontanee. Ma è una gratitudine, non è proprio di questo. Non c'è da fare. Ma che gratitudine? Eh, Virgito, non c'è per sempre la tua età, cioè ti sembra una soluzione. Sì, tant'è che l'avete sottoscritta. E se non era per me, stava tanto la litigata. Ma io non così abbia facciato per me, non ho visto la tua età. Ma che è chiuso, ho fatto qualche pazza per ritornare con l'oretà. Adesso mi...